Ringrazio l'onorevole Di Battista. Presidente, utilizzando parole consone, credo che sia anche un dovere di una forza politica nel modo giusto denunciare episodi corruttivi in quest'Aula e non recarsi solamente in procura. Sappia lei che tutto quello che noi denunciamo in quest'Aula è già diventata denuncia ufficiale in procura. Non è un caso, banalmente, che noi parlammo della cricca delle grandi opere del sistema in calza otto mesi prima che arrivarono gli arresti da parte della Procura. Rispetto alla denuncia politica sul fatto che questa Repubblica sia diventata da una Repubblica fondata sul lavoro a una Repubblica fondata sulle banche, viene determinata questa denuncia dal numero di provvedimenti che questa maggioranza ha appunto approvato negli ultimi tre anni, Presidente. Glieli voglio dire, sei provvedimenti o approvati o in procinto di essere approvati a sostegno delle banche e zero provvedimenti a sostegno dei cittadini, a cominciare dai pensionati minimi. IMU, Banca d'Italia, decreto sul credito cooperativo, decreto salvabanche, boschi, bail-in, decreto sulle popolari e decreto legislativo sulle banche e mutui. Questo Governo risponde agli istituti finanziari e non ai cittadini. D'altro canto non è stato eletto da nessuno. Grazie, Presidente. La ringrazio, Onorevole Di Battista. Questo dimostra il suo intervento, che si possono svolgere denunce politiche senza utilizzare termini sconvenienti. E peraltro poi saranno le procure che danno seguito ai processi e non l'Assemblea. Onorevole Sibilia, prego, a titolo personale. Io avevo però prima chiedo scusa, Onorevole Sibilia, l'Onorevole Vecchio. Grazie, Signor Presidente. Io, quando ho avuto la notizia di questa legge che dava alle banche la possibilità di vendere la casa dopo 18 mensilità non pagate, mi sono preoccupato perché pensavo che avessimo dato uno strapotere alle banche.